Si chiama Saluti da Battipaglia, il libro fotografico realizzato da Francesco Bonito, che raccoglie più di 100 antiche cartoline illustrate di Battipaglia spedite nel corso di 70 anni. Un racconto per immagini della trasformazione urbana, dei cambiamenti del costume e dell'evoluzione economica e sociale dei suoi abitanti. Un viaggio indietro nel tempo per scoprire il paese che non c'è più, per ritrovare i luoghi dell'infanzia, dei nonni o dei genitori. L'album fotografico dei Battipagliesi, dai primi del Novecento al ventennio fascista, dal dopoguerra alla fine del boom economico. Una raccolta dedicata a chi ama Battipaglia, a chi vuole comprenderla, a chi si impegna per migliorarla, da sfogliare con nostalgia e da custodire con affetto. La raccolta delle cartoline ha preso circa 15 anni, perché la mia collezione conta circa 200 cartoline, sono state selezionate le migliori, sono circa 120 quelle presenti in libro. Invece il lavoro di indagine storica, l'impaginazione e la cura del libro ha preso circa otto mesi. Primi feedback ricevuti? Devo dire che una grossissima soddisfazione, sia la sera della presentazione, dove sono intervenuti più di 100 persone, sia questa sera con la presenza della sindaca e poi che è stata un po' la ciliegina sulla torta, abbiamo avuto una grossa soddisfazione. Soprattutto il riscontro è che il libro piace molto. Questo è un libro per i battipagliesi, forse soprattutto per quelli emigrati all'estero, in altri continenti? Sicuramente, è capitato, l'ho raccontato stasera, che una copia del libro è arrivata a Melbourne. Ma è un libro anche, così come ho scritto, per i battipagliesi che amano questa città, che vogliono comprenderla meglio e che si sforzano per fare il loro meglio, per farla migliorare. Ma è un libro straordinario perché basta vedere le foto. Lui ha fatto una raccolta di foto che va dagli inizi del secolo, dal 900 al 970. Il 900 è una raccolta che lui ha dovuto fare in maniera proprio particolare, perché attraverso collezionisti, cartoline che vengono da Modena, perché non è facile. Tu la invi da Battipaglia e poi le devi, raccontava prima di una cartolina che ha trovato da Lussemburgo, per raccontare via Littoria com'era, che sarebbe l'attuale Via Italia. Allora, lo sfogliare questo libro, veramente emozionante, invito tutti a prenderlo. Almeno chi ama Battipaglia e chi è di Battipaglia. Perché tu vedi come nasce quando era un borgo, quando nasce come borgo contadino, che diventa frazione di Eboli nel 1860, successivamente frazione, a quando poi diventa comune nel 1229 fino agli anni 70. E allora tu vedi di come noi eravamo un popolo in cui c'era miseria, c'era povertà.